buongiorno fermati che è giusto un pia mi tocca buttarlo via buongiorno e beh buongiorno sto cazzo ma perchè annaggia il babaccio no guarda ce l'hai tutti puntati ma perchè ti da gusto tanto accendere questi lumini ti viene da ridere ti viene da ridere sotto sotto no ma vieni da pia che sei stupido ma è bello perchè tu quando accendi io no si io ti do un calcio d'oro stinco va bene e io fò e io fò tu ti aspetti non l'hai da fare si vabbè aspetta dai vieni a dica vabbè buongiorno coccodrilli ci siamo ci siamo no nooo vabbè sta pieno di lumini stamattina nonno oh no guarda che c'ho guarda e ora ride e ora ride con la tangente fa vedere ora nasconde nasconde e ora sei contento e ora sei contento che hai preso la tangente levate che mi hai smorzato i coschi adesso mi tocca buttare via ora sei indagato adesso eh per tangentopoli io ti fò un pennello così guarda proprio denetto un pennello proprio guarda vattenee queste tutte con la fiamma ossidrica ma che ti può accendere con la fiamma ossidrica il lumino no chiedevo eh chiedo eh oh o no che faccio questo è il discorso c'è un lume mi sta soffiando fai le cose fatiche ti soffi eh veramente c'è fatiche oh ma la te dico io no ma c'è un lumini no dai la no ma c'è un lumini no ma c'è un lumini qui li volevamo ricordare che venerdì esce la nostra canzone sta pieno sta pieno ora vi lascio il link fate swipe vi loggate su spotify o su apple music e la nostra canzone vi arriverà direttamente nella vostra libreria vero eh certo è semplicissimo basta che fate così col ditino come devono fare eh cosi col ditino swipe 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 e venerdì sarà lì 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 tra spallet dai dillo tra spallet e cazzo ah eh dillo per bene quello di lì che è? il raghetto per capri è partito ma che mi hai messo adesso? l'azione del canzone come? andiamo a capri andiamo a capri andiamo a capri oh che stai a mangiare? ti faccio e che fai dopo? ci fai due belle scorreggie ma come? come le fai? oh un culo oh no nonno ma roba tanto i coglioni ah vi volevo far vedere quello che è successo la scorsa settimana su Bidu iMac iMac 1500 euro di valore 581 puntate 16,11 euro 500 euro di buoni su Bidu 1269 puntate utilizzate 27,51 euro ma adesso guardate dove vi porto sezione pronti per fare la puntata c'è anche la sezione luxury guardate la roba anche un rollo fate swipe iscrivetevi e vi regalo 10 puntate gratis per provare a vincere i premi oh no oh no ma tu ancora trombi? beh sei sicuro eh? eh sei sicuro? eh beh com'è? io il viaggio l'hanno preso mai e non si vuole sei sicuro eh? io ho mangiato i ceci con che? chiara carli incredibile eh? che hai cucinato? illustraci oh le viti con la crema di zucchine e pomodorini le viti con i pezzi e i pezzi e i pezzi parla per se volete le informazioni sulle viti e i pezzi e i pezzi chiedete a chiara carli che hai fatto le? le viti con le zucchine e i pezzi e i pezzi e i pezzi le viti ma ci sono i pezzi ma ci ho da mangiare le viti ma ci ha da mangiare le viti camminate siamo è il mio questo è il mio il cacciavite quello è il mio 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 non ci posso mangiare tutto niente c'ha tutto lui eeeh c'ha tutto lui tuttone c'ha to to ti ello allora ti ello to to ti ello to to Dove andiamo? Che si fa? Stuzzicadente con le unghie, bello. Qua arzugata. Dove andiamo dopo, tra un po'? Quando sono io? A fare la visita dagli occhi. Pensa che... Sto oculista fa anche il barbiere. Che hai? È un oculista barbiere. Barbiere? Eh, ti fa anche i capelli. Oh, anche i capelli. Che ti fa? Come un oculista barbiere. Hai capito? Secondo me di qui ti fa un taglietto. Guarda, viene da rire. Quanto sei felice che ti fa tutti questi versini. Al carico, al risciolio. Della missonda, al risciolio e all'oculista. Fanno anche le pelucerie. Vattene! Ah, è la tua ferma che le mani. E cosa fa? Che cosa c'è la fa con le mani? Che c'è la fa con le mani? Ma che cazzo ne so di quel che ci vuole fare. Che c'è la fa con le mani? No, che c'è la fa con le mani. Ancora carico la roba. Chiapà. 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 Te stai a fare i cazzi degli altri? Ancora carico la roba del comune. Se stai a fare tutti i cazzi degli altri. Che c'è? Che fai? È lui. Eh? Chi è lui? È un figlio non migliore. Guarda i cazzi degli altri come te li fai bene. Meglio, meglio. Va più avanti. Va più avanti, dai. Va a fare più cazzi. Fai a fare più cazzi degli altri. Fa. Eh? Fa. Che stai a fare? Ciccio. Eh? O no? No. Che stai a fare? Ciccio. Dove andiamo adesso? Dal dottore. Dal? Dal dottore. Dall'oculista. Eh? Quanti sono questi? Eh? E' in tre. Questi? E' in tre. Questi? E' in tre. Stiamo dal dottore Marco Messina. Eccolo. Ma è possibile. Sta sempre al piano. Oh no. Fa l'occhiolino. Ma sta zitto cammina. Fa l'occhiolino. Sì. Oh no. Sta zitto smettala. Così? Meglio o peggio? Eh un po' meglio ma poco. Non le distingo. Nessuna di queste? Mi sembra la zetta. Sì. Aspetta. C'è in sassolino. C'è in sassolino. Levo te. C'è in sassolino. Levo al sasso, no? Madonna. No. No. Dal dottore no. Eh. Io no? Così non vedo niente. Adesso? Vedi? Vedo il telefono in due. Che è lì? Che c'è sta? Ma la... Che è? Vedi adesso? Ma io cosi non che è? Che è? È una donna che è poco... Vedi adesso? Eh? Ma con questo e senza è uguale. Eh ma vedi adesso che è? Vedo me senza. Che è? Ma che cavolo ne so che è? Come che ne sei? Eh... Levo te cammino. Hai visto o no? Eh? Allora ride. Adesso... Eh? Questa è tutta scema. Adesso vero o no? Ma ci ha fatto mettere questa. È vero o no? Levo te cammino. Va bene adesso? Io ci credo. Com'è? Eh... Levo te. Com'è? Mannaggia. Com'è? Va via. Va bene questa? Va bene, va bene così sì. Così ok. Posto. A parte le cose, le cavolate, prendetevi cura degli anziani, portateli a fare le visite, vero o no? Eh beh. Eh? Che adesso te li rimettiamo a posto la vista, eh? Dopo vedi tutto. Adesso è un po' anche rincoglionito, è normale. Ma che so' un po' rincoglionito tu? No, sei un po' rincoglionito. No, cammina, dai. Soprattutto perché c'è il cincilla un po' a pannello. No. Sta fermo, mi fa male. Ma io volevo chiappare un po' il cincilla. Che cazzo è da chiappare. Torno a casa, guardate la nonna. Secondo voi che cosa starà facendo? Io se sente a bollire, pipipipipi, guardate la merenda che mi ha fatto. Le polpette, raga. Ma come si fa a non amarla? Eh, davvero. Ma raga, ma quanto so' buone. scottano, ma sono buonissime. Aspetta che le freddo. Mettelo in un piattino. La merenda del campione. E' uno buone, mi bacio. Bella, bella. Sono un po' rosse demonio, ma. Eh no, sì. Va via. Come? Va via, vedete, non domina quella persona. Ah beh, è vero, è vero. Oh. Ma vaffanculo. Ma perché? Ma che perché? All'improvviso è una uglata. Che stai a fare? Pisciate. Un'altra volta. Sì. Ma quante volte pisci? Quando mi scazzo. Davvero molto. Non vi daremo tre paia di calze medicali, ma ben quattro paia. Sì, proprio così. Avete capito bene. Quattro paia di calze medicali, gambanetto. Gere, traspiranti e resistenti. Grazie, ma. E grazie al loro unico brevetto, alleviano il dolore, aiutano il fluire della cir... Mi dubito seriamente, nessuno è testardo e capabile come lui. Buone che tanto questo è un telecomando. Che ho fatto adesso? Che stai a... Ma che ha fatto? Ma lui con il telecomando per me che mi sposta da lì. Questa è un telecomando per me che mi sposta da lì. E' un telecomando per me che mi sposta da lì. Ma è il telecomando per me che mi sposta da lì. E' un'idea di pensare. Ma che vuoi dirle? no le minacce no 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 ecco via almeno me ne va ma perché ma perché due io vo ciao 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 fa per bene mi raccomando mi avevo detto una cosa che mi era arrivata avevo ordinato su amazon la ragazza e ecco guarda variata questa scatola da amazon adesso aprirò vediamo che cosa mi è arrivato perché qua siamo tutti curiosi vero più tardi l'aprirò e vedremo cosa ci sarà fa sentire speriamo che è brava speriamo che è brava speranza sono finito ok ma è in sogno no non è in sogno che spettacolo ragazzi posto magico vi avevo promesso che avrei fatto l'unboxing di quello coordinato su amazon per il momento mi è arrivata solo una mano della mia ragazza quindi piano piano arriveranno altre uscite questo questa cosa di acquistarla piano piano perché almeno le fammi arrivare tutti i pezzettini così li metto insieme dopo ve la posso far vedere intanto è arrivata la mano e adesso vediamo stasera siamo messi così